All'interno del nostro stand abbiamo cercato di mettere in evidenza le nostre eccellenze e quelle già consolidate, le nuove proposte. Ci sono sempre delle grandi notizie all'interno del nostro stand per l'8 ma quest'anno è di partire una notizia, è quella di casa media, quella di attuato che noi realizziamo con un affinario di alta tecnologia e grande manualità anche a mano dove possiamo decidere in maniera più o meno profonda Grazie